Mi chiamo Sonia Vignola, oggi sono a Dubai, sono all'interno del World Trade Center per una formazione professionale che la nostra azienda ci mette a disposizione. Durante un corso di formazione a Dublino ho conosciuto una persona che poi nel tempo si è verificata una persona speciale per me. Vi parlo di Gordon Attard, Gordon è un ragazzo maltese che è diventato proprio speciale per me non soltanto dal punto di vista dell'amicizia ma soprattutto anche dal punto di vista professionale. È una persona molto preparata e soprattutto molto disponibile, quindi sono proprio contenta di avere lui nella mia vita perché la sua professionalità la dimostra veramente in tutti i modi e quotidianamente con tutti. Vi saluto da Dubai.